sono ancora dei comandi che secondo me non funzionano la cosa positiva è che non devi continuamente tenere premuto cazzarola sono da solo allora se sono da solo è merda ok si confermato che sono da solo prendi e vattene e ora aspetta, puntiamo qui verso A poi andiamo sui controlli, weaponry con le ship control, weaponry, launch torpedoes, ok scusa per averti tagliato la strada allora se lui lo prende da qui da destra io vengo a sinistra sto perdendo un po' troppa gente ground unit destroyed, perfetto the ground unit destroyed poi ho notato adesso adesso sto cercando di imparare come lanciare i torp e non è una cosa normale anzi non è una cosa semplice, punto vediamo 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 prendono i cop socks prezzo lo prendo lo prendo go noyou vediamo vedo vediamo 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 pictured nohou, dud ahaviah pezzi che volano non ho più il controllo di lui ahahahahah ma 911 secondi di riparazione e quando mai la riparo? bordo Ho fatto una mappa randomica Con tante cose per nascondersi Non hanno utilizzato nulla di vero Adesso voglio vedere Che cosa succede No ma tanto non sono simulate quelle cose lì Poco ma sicuro Non gli ho fatto niente Perché non ci hanno dato dei torpedo da usare Per la beta Sarebbe andata molto meglio Ah ma è in arcade No non è in arcade Cazzo di Però mi hanno rispuntato fuori le bombe Sì ho capito cosa vogliono fare Va bene Mi sta bene Aia 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 Boom È una semi arcade Sì è una beta Ma non mi aspetto nient'altro E che Se questa cosa qua Vabbè Ci sono dei proiettili in più Da andare a vedere Ma non C'è un bacco Non ti fa vedere dove Sì insomma A me sta bene così Comunque Non è che Non intendiamoci male Ah che bello Lascio i comandi E la barca va Dai schiantati Così mi dai un punto Eh bene Le nà I siluri Li devo ancora capire Perché secondo me Tengono solo ed esclusivamente Quella di Ah 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 Ho capito Va bene Va bene Va bene Ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Ho fatto una cazzata Va bene Aia Sono preso su due fuochi Un bruciato malissimo Ciao Stim E la E questa qui è una rank 3 Mi auguro sinceramente Che la Gaijin Si metta a fare Le navi più grosse Perché queste qua Non possono Non possiamo Ritenercele così Sono caricce Sono carucce Allora hop Andiamo ancora a capire Come si mira bene Per i torp Perché i torp Non ho ancora capito Come Sono lenti Ah come vanno lenti Cioè Boh Ok Gira 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 Scegli Rotowash Bon voyage Boom Ce l'ho fatta Però c'erano tutti con me adesso Aia Eh si Ho preso quello di Peck Mi sto divertendo Ci sono ancora dei bacchi Ovviamente Perché essendo una Essendo una partita di E